la partita. Posso iniziare? Scusatemi. Il mio ginocchio sta bene, ho avuto qualche problema ma non tale da non potermi allenare o giocare, sono piuttosto ottimista in questo. Ora è chiaro che la disfatta dell'Everkusen non l'abbiamo digerita, è stata sicuramente una partita molto importante per noi, per la Bundesliga, è chiaro che per settimane aspetti il momento di giocare una partita così decisiva per lo scudetto, ti imponi tantissimo e poi quando ti ritrovi con una disfatta del genere è chiaro che inizi a riflettere molto, ne abbiamo discusso non solamente insieme alla squadra ma anche insieme al nostro allenatore che ha analizzato ogni passaggio della partita, parlando apertamente di tutto ciò che non ha funzionato. È chiaro che, come dire, è stata colpa nostra, sappiamo quali sono stati gli errori, la cosa positiva è che davanti alla partita che andiamo ad affrontare domani, sono due chiaramente di andata e di ritorno, si tratta di partite molto importanti e vogliamo assolutamente raggiungere i quarti di finale, dunque fortunatamente avremo queste partite che ci permetteranno, spero chiaramente, nel migliore dei modi di poterle affrontare, cercando di, come dire, riuscire a riprenderci laddove abbiamo fallito all'Everkusen. Aspettiamo la traduzione che però è già finita. Nicolas Lennat per la Bild Zeitung. Kimmich la sconfitta, l'Everkusen l'ha analizzata in modo tale dicendo che vi è mancata un po' la leggerezza, la libertà di movimento dal tuo punto di vista, che cos'è che vi inibisce di riuscire ad essere veramente e a dare il massimo? E soprattutto, com'è che si può riprendere le situazioni in tempi così brevi prima di affrontare la Lazio? Ha perfettamente ragione, la leggerezza forse l'abbiamo un po' persa, abbiamo iniziato subito male, ma dobbiamo, come dire, giocare con la consapevolezza che perduri più di 15-20 minuti, cioè un primo errore dopo i primi minuti non ci può completamente mandare fuori pista. È chiaro che è molto importante comunicare tra di noi, sostenerci a vicenda, soprattutto per quanto riguarda la struttura della squadra e dell'organizzazione della squadra, soprattutto quando stiamo in difesa e con la difesa. Dobbiamo imparare dai nostri errodi nel tempo più breve possibile e riuscire a tramutare una partita così negativa in un, se non altro, tentativo di miglioramento o di trasformazione in qualcosa di positivo. Ognuno di noi è affamato di dare il meglio e probabilmente una disfatta del genere ci può motivare a dimostrare veramente chi siamo. Spero di poterlo dimostrare domani nella partita contro la Lazio. Qui sulla destra Julian Wolf per la Welt. Manu, che cosa potete aspettarvi dalla Lazio che forse rispetto all'Everkusen è una squadra che gioca più in difensiva, magari non è, come dire, la squadrona che vi aspettavate, ma forse questo potrebbe essere un bene da un l'altro ma un difetto dall'altro. Sicuramente è una squadra italiana e sappiamo perfettamente che tutte le squadre italiane stanno difendere molto bene, il centrocampo sarà presente e compatto, cercheranno di essere anche molto compatti in fase di attacco, ci cercheranno di far giocare esternamente evitando di farci penetrare al centrocampo. È chiaro che forse, come dire, dagli uni o dagli altri il nome della squadra della Lazio potrebbe essere sinonimo di una squadra più facile da affrontare, però tengo a sottolineare che il Bayern in passato ha avuto problemi anche con squadre, diciamo così, più facili da superare. Sicuramente l'impegno sarà uguale a quello che solitamente presentiamo per il Manchester United o per il Galatasaray. Io non affermerei mai che la Lazio, come dire, sia una squadra minore da affrontare, e anzi non sottovalutiamo assolutamente nessuna delle squadre che andiamo ad affrontare, anche se non dovesse funzionare come abbiamo immaginato contro il Leverkusen. Questo ci insegna a doverci concentrare su noi stessi. Ognuno di noi deve presentare, deve dare il meglio, ma dobbiamo anche cercare soprattutto di mietere i successi uniti, stando uniti. Stefan Kumberga. Signor Neuer, è già stato parlato molto dopo la partita con il Leverkusen della catena A3-A4, cioè della difesa A3-A4. Secondo voi quanto è importante presentare un modello che sia conosciuto per la squadra? Ora, è chiaro che è piuttosto difficile parlare, soprattutto perché di recente sono venuti a mancare alcuni giocatori, dunque non avevamo quella formazione che regolarmente gioca insieme. Dunque, dal punto di vista dei convocati ed effettivamente dei giocatori schierati, è chiaro che dobbiamo essere, soprattutto io come portiere, devo essere flessibile, devo adeguarmi a qualsiasi situazione. Sicuramente dovrò muovermi maggiormente, soprattutto per riuscire a liberare un giocatore in difesa. Con una difesa A4 probabilmente abbiamo una formazione più consolidata, ma sostanzialmente chi gioca per il Bayern Monaco e i giocatori a questo livello devono sicuramente avere la possibilità di battere qualsiasi squadra che incontrano. Klaus Bergman, DPA. Lei ha sempre avuto un buon occhio sulla partita che vi aspettava. Ora, la difesa contro il Leverkusen non ha proprio funzionato, il fatto che Harry Kane non è riuscito ad attaccare, secondo lei è stato solamente un problema di questa partita, oppure è stato proprio un problema in generale, perché solitamente Harry Kane non è semplicemente un cannoniere, ma è proprio come dire un regista della partita. Allora, sicuramente la partita, così come ce la immaginavamo prima di giocarla, non si è poi implementata, realizzata. Non siamo riusciti a implementare la nostra strategia, motivo per il quale Harry Kane non ha avuto vita facile. È un po' come se noi lo dovessimo nutrire per permettergli di andare a rete. Sicuramente è stato portato in una zona pericolosa dove non ha potuto fare il fenomeno. È chiaro che dobbiamo fornire, dargli degli assist che gli permettono di andare poi a rete. Nell'ultima fila per Kicker. Ciao Manuel, tu conosci sicuramente tutte le diverse squadre che sono scese in campo per il Bayern Monaco, che hanno appunto tutta una serie di giocatori che hanno giocato, che sono stati sostituiti. Secondo te negli ultimi anni si è creato una sorta di vacuum, di vuoto, perché probabilmente gli altri giocatori non hanno familiarizzato così bene con la squadra come gli altri. Che cosa ne pensi tu nel tuo ruolo da capitano? È chiaro che ci vuole sempre un po' di tempo per gli uni o per gli altri. A un certo punto i giocatori smettono di giocare. Noi abbiamo tanti giocatori di punta nella squadra di convocati. Sicuramente Thomas Müller non stava al suo posto, avevamo altri che si erano infortunati. È chiaro che con una squadra consolidata e con un certo asse riesce a risolvere delle situazioni in attacco e soprattutto con la comunicazione in campo. Ho già parlato prima della situazione per quanto riguarda i giocatori in campo, poi sicuramente molto è cambiato con i cambi, ma le persone, i giocatori che scendono in campo sono giocatori con una forte, una grande esperienza. Dunque come giocatori di punta non devono essere sempre in prima fila, ma devono assumersi anche le responsabilità quando stanno nelle retrovie. e questo per il successo della squadra. Se ci sono ancora domande... Jan Christian Dresna ha sempre detto di continuare, ma è difficile dopo un sabato come quello passato riuscire a continuare o riuscire ad andare avanti. Io non posso che continuare a sottolineare quanto ho detto. Delle situazioni così tremende, delle esperienze così tremende richiedono che ritorniamo in campo quanto prima. Dunque dobbiamo ricordarci sicuramente di tutti i successi che abbiamo ottenuto in Champions da quando è iniziata quest'anno fino a qui. Sicuramente non è semplice dimenticare completamente quanto è successo sabato contro il Bayer Leverkusen, ma ciò che ci distingue noi professionisti da altri sportivi dilettanti è il fatto di riuscire a rialzarci dopo delle disfatte, dopo degli infortuni. Ritengo che tutti i professionisti abbiano questa motivazione e debbano saper contenersi. Come giustamente ha detto Jan Christian Dresen, dobbiamo cercare, puntare, di vincere la Champions. Questa era la prima parte. Grazie Manu e ritorniamo con l'allenatore a breve. Grazie a tutti.